Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel quinto episodio della Vanilla. Nello scorso episodio eravamo rimasti che finalmente ho costruito la mia casa e come vedete siamo all'interno perché ho deciso di fare qui la mia casa. In questo episodio come vedete c'è in compagnia con me c'è Deborah. Ciao a tutti! E lei mi aiuterà a costruire una cosa all'interno, una specie di scala che adesso vi faccio vedere. Quindi metto scena 1 in OBS, ecco noi questo, cioè questo voglio che lei costruisce. Ok ragazzi e mentre lei costruisce io ovviamente per non stare senza far niente vado in cerca di qualcosa quindi andiamo in miniera in questo episodio. Allora tu ti metti a lavoro, io esco fuori e vado in miniera. Allora ragazzi visto che non posso salire perché ancora devo fare la scala me ne vado da qui quindi vediamo un attimo dove ci porta. Ok, dove sono le scale? Vabbè chiudiamo un attimo qui e vi faccio vedere come ho aggiustato la piramide. Come vedete ho messo tante torce perché sennò spawnavano i mob. E poi non so se qualcuno di voi ha notato il mio piccolo errore ma la piramide era storta. Tipo lì a sinistra c'era un blocco e a destra due blocchi quindi ho dovuto aggiustarla. E per il resto qualcuno di voi mi ha consigliato di fare la mia skin qui sopra ma non faccio la skin ma farò la mia testa. Che mi sembra abbastanza buona come idea perché la skin è troppo grande ragazzi quindi preferisco fare solo la testa. Allora ci diamo un attimo questo ragno, potevo anche non attaccarlo. Lascia? Lascia? Ok, la butto giù. Allora ragazzi io adesso mi sono preso questi due picconi che mi ero fatto con il ferro che mi era rimasto l'altra volta. E direi che possiamo andare a trovare una miniera. Allora, vediamo un po'. Non so se vi ricordate ma su questo terreno c'era già una miniera. E ovviamente l'ho coperta perché ci ho fatto la casa sopra. Quindi direi di spostarci e andare qui in questa zona. Proviamo a scavare qui anche se c'è l'acqua ma è meglio non allontanarsi. Quindi direi di scavare qui. Scendiamo qua e vediamo un po' cosa troviamo. Anzi mettiamoci sotto l'albero. E iniziamo qui ragazzi, vediamo un po'. Inizio a scendere. Poi ovviamente se ci sono parti noiose o belle velocizzo o non lo so, vedremo, vedremo. Comunque iniziamo a scendere e vediamo un po' dove ci porta. Anche perché io vorrei cercare di puntare al ferro per il momento perché dobbiamo comunque fare l'armatura a debora. Quindi io non ho ferro e quindi l'obiettivo primario è prendere il ferro. Poi se c'è il diamante è ancora meglio. Come vedete ho il piccolo in ferro quindi posso prenderlo. Vabbè. Noi prendiamo tutto quello che c'è da prendere. Quindi prendo qualsiasi cosa, lapislazoli, oro, carbone soprattutto che mi servirà. Vai vai. Poi non vi ho fatto vedere ma nel villaggio dei villager l'ho riempito di torci ragazzi perché era pieno zeppoli mob. Quindi per non farvi morire ho fatto così. Poi ovviamente non lo so o me li porto in casa o almeno nel caso li recinto. Quindi faccio qualcosa che loro sono difesi. Quindi una recinzione. Comunque scendiamo, scendiamo, scendiamo. Vediamo un po'. Qui ovviamente c'è la ghiaia. Chidrok sta a significare la fine del mondo. Diciamo non si può andare più giù di questo livello. E vabbè, devo capire un attimo cosa fare ragazzi. Secondo me sono un attimo costretto a salire sopra. Cioè non a salire ma... Oh ragazzi ma è quello che vedo. Oh è un bug. Abbiamo trovato il diamante. Due diamanti. Così a caso due diamanti. Veramente? Sì. Grande. Cioè due diamanti neanche vicino la lava, capito? E allora prendiamoli subito. Allora uno, peccato che non ho il piccone con fortuna. Vabbè, meglio di niente. Vediamo quanti ne abbiamo trovati. Ne abbiamo cinque, non male. Non male. Ovviamente, tu cosa mi consigli? Di fare il piccone oppure mi metterlo a parte per poi fare la corazza e tutto? No, no, fa il piccone prima. Prima il piccone, poi le altre cose. Sì, il piccone. E mi sa che non appena mi finisce questo qua in ferro, che ce n'è un altro, farò assolutamente il piccone. Tanto comunque il diamante ragazzi bene o male si trova. Ecco, si è rotto il piccone, continuiamo con il secondo. E non so dove stiamo andando, sinceramente siamo ancora a livello 8 e devo salire mi sa. Per trovare qualcosa devo salire. Perché le miniere... Oh, tu sai a che livello si trovano le miniere di solito? Eh, dal livello 12 in su. Ok, allora io cerco di salire. Perché ero a livello della bedrock, quindi non credo che ci sia più niente là sotto. Dai, una cavolo di caverna, non chiedo tanto. Abbiamo già trovato il diamante, quindi... Ovviamente abbiamo già vinto dall'inizio perché io ero in cerca di ferro. Però comunque non sarebbe male una bella caverna. Bellina. E infatti ragazzi, no, non ci posso credere. Vi rendete conto? Indovina cosa ho trovato? Indovina. La caverna? Sì, no, la miniera abbandonata. Oh, grande. Grande, così. Senza volerlo sto andando in queste direzioni esatte. Comunque qui ci sono un botto di creeper. Direi di farli fuori. Ok, poi devo anche capire dove... Dove mi trovo ragazzi. Oh mio Dio, questo maledetto creeper è esploso. Allora, se ci sono caverne abbandonate... Uno, possiamo trovare le chest. Le chest che di solito si trovano nelle caverne. E due, possiamo trovare i mob spawner. Quindi cerchiamo un attimo di fermare sto stronzo che sta esplodendo. Mi prendo anche i lapislazzoli perché i lapislazzoli servono. Se poi vogliamo, come vi ho detto, incentrare la roba. Ok, 40 lapislazzoli, stiamo a posto per una vita. Andiamo avanti. Esploriamo un po' questa miniera. Vediamo un po' cosa troviamo. Innanzitutto direi di mangiare un po'. E vorrei andare da queste parti. Ragazzi, io sono in cerca di un mob spawner. Quindi, se troviamo quello... Oh, oh, l'abbiamo trovato ragazzi. Ma stiamo scherzando. Tutto quello che dico e che voglio, lo sto trovando. Cioè, è incredibile, no? Sembra che io ho tipo l'X-Ray, no? Invece sto trovando tutto. Ma c'è qualcosa che non quadra, sinceramente. Come è possibile questo? Cioè, Deborah, secondo te è possibile? Cosa? Che ho trovato un mob spawner ma non c'è niente dentro. È bugato, allora. È bugato? Eh, sì. Ma può capitare? No, mai visto. Non c'è niente, ragazzi, dentro. Vi rendete conto? Non c'è... non c'è niente. Ma stiamo scherzando. Ho trovato un mob spawner e non c'è niente dentro. Ma è strano. È strano. Non spawna niente. Ah, boh. Chi lo sa, ragazzi. Comunque, è un mistero. Cioè, spero che questa versione 1.11 non... Oh, cavolo. Avete visto cosa c'è lì? Ci sono tanti, tanti scheletri. Che io voglio affrontare, sinceramente. Non mi farò mai fregare da loro. Venite, venite, venite. Guarda, ragazzi. Ne sono così tanti che mi stanno a fare il culo qui, eh. E vattene un po'. Allora, ho capito cosa sono... Vattene... Ok. Devo un attimo rigenerare i cuori. Non capisco perché quel mob spawner bugato. No, ma che stregoneria è mai questa? Oh, anche qui, Debora. Anche il secondo. Anche il secondo è bugato. E' troppo strano. Ma cosa può essere successo, ragazzi? Ho i mob spawner bugati. Non è che forse sto ostando questo server su Aternos per far giocare anche lei e me l'ha bugato tutto? Cioè, io ovviamente questo video ve lo tengo perché voglio comunque sapere le vostre informazioni. Perché è veramente strano, no? Cioè, guardate, mi sono avvicinato ad un mob spawner diciamo di ragni perché dovrebbe essere di ragni e non c'è niente. Non c'è neanche l'ombra di un ragno. Cioè, guardate, ragazzi. Io sono qui. Dove sono? Cioè, non c'è niente. Niente di niente. E' un serio problema questo. Ora devo capire se si tratta di Aternos che mi sta bugando il mondo oppure perché non lo so. Un altro problema. Ditemelo vuoi nei commenti. Ok, venite. Io vi affronto. Non ci sono problemi. Un bel zigzag. E quindi... Wow, ragazzi. Guarda dove mi hanno messo. Nella ragnatela. Vieni qua, maledetto infame. Tu, creeper, cosa vuoi fare? Vuoi far scoppiare tutto? Non te lo permetto. E invece sì, bravissimo. Hai fatto scoppiare tutto. Qui... Qui di nuovo il mob spawner di prima. E su questo ci siamo. Ma non c'è niente all'interno. Vi rendete conto? Cioè, guardate. Buio qui. E... Cioè, niente qui e niente lì. Allora, cerchiamo un attimo di chiudere questo stronzo. Perché potrebbe romperci tutto. No, non venire qui. Ok. L'importante è che non rompe il mob spawner. Perché comunque voglio sapere da voi se questa cosa... Cioè, come si risolve questa cosa. Perché veramente sono incazzato. Guarda, io sono arrivato qui e non c'è niente. Niente di niente. Ma neanche una chest. Quello è il problema. Neanche una chest. Devo capire se si tratta di Aternos perché noi stiamo in questo momento giocando su Aternos. Vedete, se premo tab c'è ovviamente la lista dei player che stanno giocando. E non lo so se questo è il problema. Vabbè ragazzi. Tu, Deborah, a che punto stai? Ho fatto un piano. Vieni qui, maledetto. Vengo un attimo a vedere da te. Sì, vieni a vedere. Così mi dici come ti piace. Sì, sì. Però perché guarda qui. Cioè, sono in questa situazione brutta che non posso fare un cavolo di niente. E devo capire se si tratta di Aternos. Ok. Devo un attimo mangiare. Ok che abbiamo trovato i diamanti e questo sono contento di questo. Però non accetto questa cosa che non c'è niente. Ma neanche... Non c'è neanche una chest. Vabbè. Noi per il momento non dimentichiamoci di questa caverna. Perché comunque se si risolve tutto ovviamente ragazzi siamo veramente ad un buon punto perché abbiamo due mob spawner dove farmare esperienza quindi. Qui sicuramente ci sono i ragni perché ci sono le ragnatele. E lì è probabile che ci siano come si chiama? Gli scheletri? I zombie? Chi lo sa. Comunque io devo un attimo salire sopra. Ok voglio un attimo può salire i diamanti qua nel caso io ci muoio. Ok. Anche i lapislazzi abbiamo la diorite. Ok. Sì. Mi piace. Io così lo volevo. Guarda che effetto... Vedi l'effetto quando salvi? Sì è perfetto ragazzi. Cioè qui possiamo metterci tutto quello che vogliamo. Qui e sopra ci sarà tipo la stanza mia dove dormirò. Mi piace. Voi che ne pensate? Io così lo volevo. Vedi così? Però poi per abbellire vedremo perché qua stanno due letti. Uno a me e uno a te. Vabbè ma qua si può mettere tipo i tappeti ovviamente quando li facciamo. Eh. Poi ovviamente giù facciamo la libreria queste cose così. Sopra diciamo sarà la stanza dove si dorme. Eh vabbè sì la stanza diciamo più. Dove si dorme giù. Ah dove si dorme giù? Eh sì perché qua vede piccolo. Vabbè allora la stanza dove si dorme giù. Però comunque abilità anche con altre cose rare quindi vabbè poi vedremo ragazzi. Comunque a me piace voi che ne pensate. Cioè io lo volevo così. Quindi vedete diciamo all'interno di una piramide c'è il cuore della base. Quindi era questo il mio obiettivo. E direi che così mi piace. qui abbiamo piano terra sotto e piano superiore sopra. Eh ma qua si può fare anche un lampadario dato che è centrale. Vedi? Sì. È bello. Scusate ragazzi ce l'ho la gola non capisco perché. Va male. Comunque sì facciamo il lampadario qui e poi dobbiamo inventarci qualcosa per salire poi si verrà ragazzi. io sarei anche risposto a mettere un pillarone così con le liane poi si vede. Vabbè poi si vede. E vabbè ragazzi io finisco qui questo episodio perché avete visto che problema abbiamo trovato lì quindi spero che si risolve. Abbiamo fatto cinque diamanti e basta solo questo ho potuto prendere e mi sarei aspettato che qualcosa di meglio e quindi fatemi sapere voi nei commenti perché è bugato lì lo devo capire. È stranissimo. È vero. E vabbè ragazzi ci sentiamo ad un prossimo episodio. Ciao. Ciao.